E bentornati ragazzi a questa nuova recensione. Oggi parleremo di Star Wars e lo facciamo con questa action figure di Han Solo, tratta dall'ultimo film del 2015, Il Risveglio della Forza, in esclusiva per la Disney Store. Diamo velocemente un'occhiata al packaging che si presenta in questa sua forma direi abbastanza semplice, senza nulla di particolare, ma nello stesso tempo molto elegante. Devo dire che questo box mi piace veramente molto, con questo sfondo rosso e la scatola dietro e lateralmente con questo effetto marmo, diciamo. Davanti c'è questa riga rossa traslucida, la linea ragazzi è la Elite Siris, scusate ma credo di non averlo detto all'inizio, e dietro non c'è un granché da mostrare, a parte questa biografia e niente di più. Quindi passiamo immediatamente a vedere Han Solo più da vicino. Ebbene ragazzi, eccoci qua con il nostro Han Solo fuori dal suo box, insieme al suo unico accessorio, e cioè questa pistola che andiamo subito a vedere. È un'arma che, come vedete, è stata realizzata in maniera abbastanza semplice, non c'è nulla di particolare, specialmente il painting che è soltanto colorato di questo nero e niente di più. Lo scalta alla fine è anche abbastanza buono, ma niente che ci fa urlare alla meraviglia. Poi c'era questa basetta con un unico peg, qui anche se come vedete non ne ha bisogno, si tiene decisamente bene. Passando invece ad esaminare Han Solo, non ne sono rimasto soddisfatto, questo è quello che voglio dirvi immediatamente. Perché? Perché esteticamente è anche bello, anzi, devo dire che è molto somigliante ad Harrison Ford, è praticamente uguale. Ma purtroppo questa figure presenta alcuni problemi legati un po' al painting e maggiormente alle articolazioni. Comunque, quando l'ho preso stavo cercando di scegliere il migliore tra le varie copie che avevo a disposizione, perché alcune presentavano diversi difetti di painting e su questo ringrazio anche della segnalazione fatta dal mio collega Tony Toys. Però questo qui non presentava alcun tipo di difetto. Quando l'ho tirato fuori dal packaging e sono andato a fare qualche prova, soprattutto per vedere le articolazioni, non appena ho tirato su questa gamba, ho provato a tirarla su perché neanche non c'è questa articolazione praticamente, quel poco che è riuscito a salire ha fatto saltare adesso lo metto bene a fuoco come vedete ha fatto saltare questo painting qui sulla coscia mostrando appunto il metallo perché queste figure come sapete sono in diecast quindi quasi totalmente in metallo e questa non è certo una cosa buona nel modo più assoluto. Comunque, passando a vederlo un po' più dettagliatamente come dicevo lo sculpt del volto è molto fedele ad Harrison Ford quindi fatto anche decisamente bene come vedete è molto somigliante i tratti ci sono tutti anche lo sculpt dei capelli è fatto abbastanza bene il painting nel complesso è abbastanza pulito anche se non mi piace molto questo rosa così piatto che hanno utilizzato appunto per le parti del volto e delle mani qualche sfumatura, qualche ombreggiatura non avrebbe certo guastato poi scorrendo più in basso questa camicia, questa maglietta è fatta anche abbastanza bene così come questo gilet abbastanza ben dettagliato anche dietro finalmente hanno trovato, devo dire, ecco una cosa positiva è che sono riusciti anche se soltanto qui sui pantaloni a mettere questi tappi per coprire queste odiose viti già che c'erano potevano metterli anche qua e va bene comunque come dicevo il gilet qui è fatto in plastica un po' più morbida poi abbiamo questo cinturone che qui praticamente è soltanto scolpito qui è staccato dalla coscia ma poi viene nuovamente unito da quest'altra fascia qui e quindi questa è una cosa che va a compromettere diciamo l'unica articolazione che avevano le gambe cioè quella di poterle aprire in questo modo che come vedete qui più di questo non va proprio per il fatto che il cinturone è collegato sia qua su che qua giù sulla coscia comunque tornando allo sculpt i pantaloni sono scolpiti abbastanza bene così come questi stivali che devo dire realizzati in maniera molto semplice niente di che e niente quindi passiamo a vedere queste benedette articolazioni dunque la testa ruota a destra e sinistra ha questo leggero movimento obliquo e non può guardare in alto e in basso praticamente non ci abbiamo a parte questa insignificante questa insignificante range di movimento comunque niente di più poi le braccia si alzano lateralmente ad altezza delle spalle anche più di 90 gradi fino a qui non abbiamo problemi ruotano di 360 gradi non abbiamo la rotazione al bicipite abbiamo l'articolazione del gomito che piega di 90 gradi le mani possono ruotare a destra e sinistra non abbiamo il piegamento all'interno all'esterno abbiamo la rotazione alla vita poi ecco la parte dolente le gambe non possono aprire più di questo in avanti non ci vengono praticamente per niente se non questo leggero spostamento niente di più non provate ad andare oltre perché vi si scortica anche il painting come è successo a me l'articolazione del ginocchio che permette appunto di piegare di circa 85 gradi 80 gradi non abbiamo la rotazione della gamba all'altezza della coscia il piede altro disastro piega leggermente in giù non più di così e leggermente in su cioè non può ruotare a destra e sinistra scandaloso e ovviamente non c'è il piegamento obliquo passiamo a dargli una misurata siamo sui 16 centimetri e mezzo circa ebbene ragazzi io passerei alle conclusioni sono veramente molto dispiaciuto perché avevo dato molta fiducia a questa figure vedendola nel box mi aspettavo sinceramente molto ma molto di più anche perché comunque il costo si aggira sui 26 euro quindi non è neanche poco quindi io ve la consiglio no a questo prezzo no se magari la trovate a meno ma a meno parlo di 16 euro non di più ok ma i suoi 26 euro così come sta sinceramente non li vale e ripeto esteticamente è anche bella e ben realizzata esteticamente ma purtroppo presenta questi problemi che non ci si può passare sopra quindi ragazzi io chiudo qui la recensione vi do appuntamento alla prossima review non dimenticate di iscrivervi al canale se non l'avete fatto un saluto a tutti da Emiliano e da Ansolo grazie a tutti